Mi trovo a Tramontone, alle spalle dell'Eurospin. Vedete, sto cercando di monitorare i quartieri giorno per giorno, perché da consigliere comunale devo dare risposte ai cittadini che mi chiamano, andare a raccogliere le segnalazioni e portarle presso l'amministrazione centrale, presso gli uffici tecnici. Siamo qui a Tramontone, alle spalle dell'Eurospin. Guardate, quest'area, questo triangolo, è un'area privata che è ridotta ad immondezzaio pubblico. C'è una cabina dell'energia elettrica e alle spalle ancora una stazione di rifornimento di carburante. Vi ho parlato della cabina elettrica e proprio incidentalmente, guardate qui, lavori iniziati, è avvenuto lo scasso e guardate, cavi scoperti e rimane tutto così. Certamente ci sono rischi per quanto riguarda la sicurezza, ma ci sono anche rischi riguardanti l'igiene, perché qui diventa davvero la casa dei topi e poi balliamo con i topi a Taranto e a Tramontone in particolare. Un'area abbandonata, un'area che è ridotta ad un porcile e che quindi a un certo punto, se il privato non provvede a pulirla, se il privato che è proprietario di quest'area non provvede a far tagliare l'erba, l'amministrazione non può lavarsi le mani e non può venire a dire ma questa è aria privata, non mi tocca, certo è aria privata e non ti tocca, però una volta che hai segnalato, una volta che hai intimato più volte al legittimo proprietario di intervenire, di pulire, di bonificare l'aria, è ripetutamente invitato, il proprietario fa orecchie da mercante e non interviene, cosa si fa, cosa fa un sindaco, un'amministrazione che sa amministrare? Fa l'ordinanza in danno, ordinanza in danno significa che l'amministrazione comunale realizza a proprie spese l'intervento di pulizia di bonifica, a proprie spese, e poi si rivale sul legittimo proprietario e dice caro proprietario, visto che tu non hai fatto l'intervento e visto che ti spettava farlo e visto che ti ho detto dieci volte di farlo e non l'hai fatto, l'ho fatto io, amministrazione comunale, a mie spese, ho speso tot e ora tu mi devi rifondere, mi devi ridare quello che io ho speso. Vedete, la cosa non è da poco perché qui c'è parecchia sterpaglia, questa sterpaglia basta un mozzicone di sigaretta, basta un qualsiasi stupidotto che appicca il fuoco e immaginate cosa può accadere proprio perché lì davanti c'è una stazione di rifornimento di carburanti, io non voglio fare sensazionalismo ma vi sto dicendo la verità, vi sto dicendo quello che può accadere perché questa sterpaglia, questa paglia, chiamiamola così, prende fuoco come niente, in uno nulla, facilissimamente e poi succede quello che succede, per non parlare poi di tutta la sporcizia che c'è perché ovviamente questo porcile diventa l'humus, diventa la sede ideale per ratti, per insetti, per quant'altro allora smettiamola con lavarci le mani e dire è aria privata e basta, certo è aria privata ma quando il privato fa finta di non sentire, ecco che interviene il soggetto pubblico e dice al privato tu devi intervenire, non intervieni, lo faccio io a mie spese e poi mi rivalgo su di te ma questo lo fa un'amministrazione che sa amministrare, questo lo fa un'amministrazione che gira la città un'amministrazione che raccoglie le segnalazioni dei cittadini, un'amministrazione amministratori che consumano le suole delle scarpe avanti e dietro per la città, nel centro e nelle periferie non un'amministrazione che sta lì seduta, spesso a riscaldare la sedia, questa è la verità tanto a Melucci interessa soltanto tagliare i nastri di strutture pubbliche e private e poi chi si è visto si è visto poi lamentiamoci, caro Melucci, se qui accade un incendio poi magari andiamo a vedere perché è avvenuto e poi facciamo le indagini giudiziarie eh caro Melucci, non è bastato l'incendio dello Iacovone? fate l'ordinanza in danno Melucci, ti ho spiegato che cosa significa l'ordinanza in danno falla e se hai bisogno, se non la sai fare, non lo so se la sai fare o meno ti aiuto io a farla grazie a tutti grazie a tutti